Dal 9 al 12 settembre la campagna sarà tra i protagonisti della 28esima edizione di SANA, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, in programma nel quartiere feristico di Bologna. L'area espositiva, identificata dal claim Campagna Terra di Bio e Dieta Mediterranea, ospiterà la regione e le imprese agroalimentari campane del comparto biologico. L'evento rappresenta l'opportunità di far conoscere il meglio della produzione biologica regionale, ad un pubblico sempre più preparato e consapevole. Inoltre le imprese del territorio avranno l'occasione di interagire con una platea qualificata di giornalisti e buyer esteri, provenienti da più di 20 paesi. Il mercato del biologico è da anni in forte crescita, in Italia il comparto gode di ottima salute. Infatti i dati diffusi da Asso Bio, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Trasformazione e Distribuzione dei Prodotti Biologici, rivelano che il fatturato complessivo del 2015 ammonta a 4,3 miliardi di euro. In particolare le vendite nella grande distribuzione hanno registrato un incremento del 20,1% rispetto all'anno precedente, mentre quelle realizzate nel dettaglio specializzato sono cresciute del 13,5%. Grazie